pasta paccheri con pomodorini secchi pomodori e brisciole di taralli e anche un filone d'olio oggi in giappone proprio da oggi ufficialmente inizia la golden week 29 che stai guardando ma anche da sabato oggi ufficialmente la prima festa nazionale quella che in giappone si chiama la golden week perché si chiama golden week perché è una festa perché ci sono quattro feste nazionali assaggia vai dai un morso poi andiamo a spiegare come mai intanto me lo guardisco anch'io i paccheri che ce l'aveva portati qualcuno no no mischiato due ah si uno è magari ti ha dato la tua mamma si oggi che giorno è? è l'imperatore sciova l'imperatore sciova Hirohito fino al 1989 il 1926 il 1989 e dopo era stata sostituita con un'altra festa perché era il compleanno dell'imperatore finché era in vita dopodiché è stata tolta quando è morto è introdotta con Midori nohi cioè la la festa del verde nel 2007 però è tornato il compleanno dell'imperatore sciova Hirohito e il 4 maggio è diventato il giorno del verde Midori nohi poi abbiamo 3 maggio Kenpo Kenenbi sai tradurre l'italiano? Kenpo Kenenbi Costituzione quindi è la costituzione è la legge fondamentale dello Stato no? è il giorno cui si celebra appunto la la costituzione giapponese poi abbiamo il 4 maggio 4 maggio va Midori nohi ma che cos'è Midori nohi? che cosa si... perché non prima era Kokumin no Kyujutsu no? sì quindi la festa del popolo sì 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 per fare il ponte sì perché il 5 maggio era Kodomonohi sì festa dei bambini infatti poi il 5 maggio è come festa dei bambini poi il ponte 4 hanno messo come Kokumin no Kyujutsu perché praticamente tra 3 e 5 erano due feste dovevano mettere un'altra festa in modo tale che fossero 3 giorni di fila e hanno inserito il giorno del bende ok e poi appunto il 5 che è la festa dei bambini magari ne parleremo poi il 5 perché quale è la particolarità della festa dei bambini? 3 marzo era festa per le femmine e 5 maggio è la festa dei bambini però soprattutto per i bambini maschi bambini maschi sì per festeggiare una buona crescita sì si mettono questi poinobori fuori che sono queste carpe che volano mio che c'è? anche te o no ma come ti ho detto ma come보i il 4? il 5 mio quel 5 prima quella di cui abbiamo parlato è il 3 marzo no? se non sbaglio in cui si mettono le bambole per la buona crescita dei bambini invece per la buona crescita dei bambini maschi è il 5 maggio Capra, la capra si mettono le capre volanti E anche l'elmo del samurai Casco Si, l'elmo, casco è più per andare in moto No no vabbè, che ridi te, che ridi Ti piacciono i paccheri? E poi guarda questa commissione Italia-Giappone Paccheri con la roba puoi essere da una parte Questa che zuppa è questa? Mioga e... Ah, quella di ieri Non è che mi piace il sitato Il sitato è buono, però la mioga mi piace Ma la zuppa è un po' così Il primo maggio è festa, vero? Anche il primo maggio è festa Primo maggio è Rodosai no He Cioè non è festa nazionale È l'equivalente della nostra festa del lavoro Sai, in Italia il primo maggio è festa Festa nazionale Anche qua è festa nazionale, o meglio Anche qua è festa, ma non è festa nazionale È una festa a discrezione delle aziende Poi tante aziende che si occupano... Seizoghiottenanti Seizan? Seizoghiottenanti Ok, quelle che... Sì, le fabbriche... Tante aziende che hanno fabbriche Fanno tutta la settimana a chiudere Cioè lei sta ovviamente guardando il calendario Quindi quest'anno qualche azienda Sono inferie dal 27 aprile fino il 6 E Miwa invece è scuola? Come calendario, quindi domani va alla scuola 3, 4, 5 no però Poi anche 6 Anche 6 è stata a casa? 6 è fricca e chiudica Come 5 è domenica È il recupero della festa nazionale Vabbè, si sta raffreddata questa Va bene Grazie a tutti per aver visto questo video Eccolo il calendario Il calendario è questo video? Chi è? Chi sono? Io non ho schienato Sono tangiosi per esempio Che ha regalato per il compleanno Io invece ho il mal di gola Mi ha preso il mal di gola Va bene Grazie a tutti per aver visto questo video Dimmi Come fai vedere? Ma non so chi sono questi Va bene Fino a 6 Vedi questi questi rossi Vabbè, i giorni rossi Va bene Grazie a tutti per aver visto questo video Festa nazionale nei prossimi giorni Io però sarò in giro Sarò in giro E ci vediamo al prossimo video del Giappone Ciao 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 Mangi i pacchieri, mi raccomando Ok? Ti piacciono? Bye bye